Il religioso ha messo sotto inchiesta l'ex presidente iraniano Katami perché durante un viaggio in Italia ha stretto la mano ad alcune donne, Giuseppe Solinas. Le immagini che mettono nei guai l'ex presidente vengono da Udine e sono state girate da alcuni amatori nel maggio scorso. Dopo una conferenza Katami incontra tra il pubblico alcune donne e stringe loro la mano. Un gesto vietato dalla legge islamica, salvo il caso di parentela stretta. Le prime foto suscitano scandalo tra i conservatori. Il video su internet porta alla denuncia di un gruppo di studenti della città santa di Con. Se condannato rischia di perdere il diritto di indossare l'abito religioso, ma l'attacco segna piuttosto l'inizio degli scontri tra moderati e conservatori per le elezioni presidenziali del 2009. Katami, moderato, nega ufficialmente ma potrebbe candidarsi per sfidare il presidente conservatore Ahmadinejad, criticato anche dal Parlamento per la crisi economica che attanaglia il paese.